Partiamo con le immagini e vedrò di aggiungere qualcosa, al dodicesimo c'è stato un episodio che poteva essere la svolta della partita, vedete va via Atli, Gentile si appresta a contrarlo, vedete è rallentato, colpisce la palla, si reclama in rigore e Ciulli dice di no, sarà un problema dei sassi. Comunque la partita continua, guardate bene, e c'è questo spintone manata di Tassotti a Massaro, espulsione, cartellino rosso, forse troppo severo. Grazie